Si è tenuto a sorrento il meeting dei comuni Plastic Free della Campania. I sindaci fanno rete per condividere le migliori pratiche di contrasto all'inquinamento. Anna Teresa Damiano. La norma che vieta vendita e utilizzo di bicchieri, cannucce posate, piatti in plastica, monouso non biodegradabile, compostabile e in vigore. Ma la strada è ancora lunga. Molti comuni hanno adottato da tempo misure in questa direzione. Ora si tratta di fare rete, avanzare ulteriori proposte a regione e governo. Per cercare di valorizzare tutte le realtà virtuose della nostra regione che si contraddistinguono sulla riduzione della plastica. Sorrento già da alcuni anni, dal 2019, ha adottato questa linea di politiche ambientali. Dopo l'iniziativa nazionale del 24 novembre a Tivoli, l'incontro a Sorrento dei sindaci della città metropolitana di Napoli e di altri comuni campani. Una rete civica eco-digital che guarda anche a progetti concreti di disinquinamento del mare. Ed è dal 1974 che c'è il piano di disinquinamento, sono stati spesi tantissimi soldi e ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Abbiamo qua un grande giacimento turistico, questo lo diciamo da Sorrento che è una delle perle turistiche della nostra area metropolitana. Un grande giacimento enogastronomico, abbiamo grande qualità e possiamo coniugare tecnologia e transizione ambientale per fare tanto per i nostri cittadini.